Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati sulla base spaziale di Minecraft per costruire altri, altri, fare altri upgrade vi faccio vedere quello che ho fatto off camera e poi andiamo a parlare subito del nuovo episodio guardate un pochito, un pochito, qui è praticamente finito, ho messo il vetro, ho messo la luce, tutto il resto non ci resta che vederlo di notte come sarà e devo essere sincero è quasi cresciuto tutto qui quindi tanta tanta roba, tanta tanta roba l'ho fatto per quanto riguarda sta parte sopra ho chiuso lì per quanto riguarda il sopra ci ho messo quei cosi lì, ma avete visto, allora me lo state dicendo in 6.000 ma proprio una cosa infinita free, utilizza le lanterne, quelle dei guardian, insomma quella roba là, se ci siamo capiti non posso utilizzarle tante, non ce ne ho tante cioè per illuminare tutta sta roba, queste sì perché sono craftabili, si fanno presto anche le altre sono craftabili, ma mi serve più materiali, materiali che difficilmente reperisco cioè dovrei fare una farm di guardian, ma adesso non avrei minimamente sbatti so che sarebbe più figo per carità, posso provare comunque a fare qualcosa a prenderne il più possibile e vediamo o comunque, basta, basta oggi sistemi di difesa allora ragazzuoli, vi faccio vedere una cosa che ho cambiato e secondo me davvero vi devo dar ragione le sea lantern, tanta roba, ne avevo un po', ce ne ho parecchie, devo essere sincero ho controllato, si può fare un'illuminazione così e ho fatto tutta sta zona qua, questa parte di collegamento non ha più praticamente ferro lo devo andare a prendere, però volevo fare sta parte di collegamento da una zona all'altra in modo tale che si possano fare anche altri giri, molto carino questo potrebbe, eh ma da qui non lo colleghi da nessuna parte da davanti, dove lo puoi mettere? Adesso siamo attaccabilissimi da mob potremmo fare in giro che si collega là, ma lì, che cosa c'è? no, aspetta qua, qui, ok, c'è la zona furnis e tutto il resto di qua, no, c'è la... questa parte che si vede il fuori è fatta apposta quindi la vorrei lasciare così bella sta strona, raga, quanto gasa allora, dopo il consiglio dei sea lantern mi servirà il consiglio per le scale perché non so mai niente come farle, con legno è brutto però le scale a più ali sono queste e basta, ci sono solo queste, facciamo queste allora ho creato sta parte sottostante per creare i sistemi di difesa appunto serviranno un cannone a TNT, ci sarà, doppio, un double TNT cannon la bestia praticamente, con l'ossidiana qui davanti di qua basterà soltanto creare dei ripetitori di frecce che sparano, bam 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 e basta, multilato, ok? dietro per ora niente quindi l'idea sarà proprio creare la parte forte del cannone cioè qui, qual è il senso di sta roba? Creare il cannone quello forte in questo momento facciamo partire l'astronave, scendiamo di sotto e facciamo il carico di tanta altra roba, risaliamo con l'astronave e poi... e poi devo capire anche però come fare il design qua quindi vado a fare scorta, vado a fare spesa d'ossidiana, acqua, redstone, tutto il resto, ci vediamo eccoci di nuovo qua e siamo pronti, stavolta con un botto di roba abbiamo ossidiana, obsidian, fondamentale, io direi addirittura di togliere questa parte qua e fare il resto d'ossidiana, però deve essere sopraelevato perché se no non parte quindi no, per forza così ci basterà? speriamo facciamo così, tac, tac, tac qui perché non so se poi chiuderemo, come faremo quindi adesso me la tengo così quanto ci vuole scavare l'ossidiana con questo piccone? troppo uno, due, tre, quattro, cinque, sei ok? perfetto madonna stavo per cadere sei dopodiché dobbiamo fare una cosa del genere che significa i lati per forza dobbiamo mettere lati e se no è un disastro totale su tutti i fronti ho bell'idea quella come passo io da qua cioè il cannone mi occupa tutto lo spazio quindi qui sarà problematico potremmo già rivestirle e dire vabbè tanto qui non ci andiamo fotte sega e ciaone tante care cose tipo fare una roba del genere così però dobbiamo farla anche di qua nel senso che questo è un muro vabbè facciamo il muro che ci frega ok tenendolo così tenendo così di qua la stessa cosa in modo tale da poter tranquillamente controllare quello che è successo ma noi direi a questo punto possiamo anche addirittura proprio riempirlo riempire il tutto così non abbiamo problemi non spawna nessuno anche perché qua essendo buio potrebbero spawnar mob quindi la leviamo sta possibilità riempiamo tutto anche qua sotto e siamo tutti felici e contenti mi sa che non faremo le cose di frecce ma soltanto questa bestia di cannone qua madonna quanto è grosso raga che miseria ok dispenser dispenser che daranno l'impulso a tutte le cose tutto così questo sarà la carica che darà la nostra TNT e qui andremo a mettere la TNT oh aspettate un attimo wait a minute devo fare una roba doppia però perché tipo se lo metto anche qua cioè mi serve un posto in teoria andrebbe messo qui no? oppure noi lo mettiamo sopra certo noi siamo piuttosti allora fammi pensare come fare questo lo puoi togliere tranquillo questo fai così così e lo metti in questa direzione bam bam no è ho una paura fottuta di cadere da scostacqua tipo ok grande tac perfetto leviamo un attimo l'acqua vediamo com'è la situazione facendo una cosa del genere è bellissimo perché tipo tu bene posso mettere una quantità di roba qua mostruosa posso fare un incremento un lanciatore di TNT estremo quindi questi danno tutti la potenza della TNT poi arriva la TNT lì boom sgancia il segnale ci vengono le TNT qua e poi quando esplodono parte fa un colpo estremo ok una volta fatto questo dobbiamo passare alla chanxions accensione che sarà data da un pulsante qua questo lo facciamo partire da tutte e due le parti e andrà ad accendere appunto tutti i vari meccanismi costruire in così posti piccoli dà molto fastidio fidatevi di me così e così stessa cosa di qua dobbiamo andare a fare uno due e tre ok ho messo della red sono da un'altra parte che non ci andava adesso devo andarla addirittura anche a togliere allora ho fatto un botto di modifico ho tolto le ali ho fatto questa roba qua perché guardate un po' una volta fatta l'accensione dovremmo salire e fare una cosa del genere dobbiamo ritardare ovviamente con dei ripeter ripeter però come cavolo li ritardo sti cosi cioè ah mi è pure caduto devo fare una strada parallela cioè devo creare un'impalcatura prima e andare a costruire guardate che annoioso forte fare queste cose mi disturba il quanto allora fare una cosa del genere così questo va qui questo va qui dobbiamo ritardarlo al massimo per il semplice fatto che se no le tnt ci esplodono qua e non è proprio piacevolissimo secondo me così così bastano e io un altro ritardino qui ce lo metterei oddio dopo vorrei evitare di ritardarlo troppo però ci dovremmo essere dovrebbero bastare tranquillamente i ritardi che ho messo e andare e poter fare appunto questo cannone estremo lunghissimo eccezionale guarda un po' quanta quanti tnt ci vanno cioè sarà davvero un raggio d'azione enorme praticamente ho completato tutto è fatto ho messo tutti i ripeter non ci resta che provare il resto voglio mettere un coso qui in questo dispenser e voglio metterne uno qua per vedere se effettivamente funzionano e con quanto delle funzionano in modo tale da rendermi conto effettivamente se davvero può funzionare o no dato che questo è un modello che non ho mai provato dato che essendo doppio li faccio sempre singoli infatti sempre singoli quindi vediamo un po' tac esatto avete visto che è successo se non l'avete visto ve lo spiego io dato che questo ha dato electricità a questo blocco qui purtroppo cioè ha droppato questo prima quindi dovremo togliere questo da qui e togliere anche quello in modo tale da evitare appunto questo spiacevole problema che se no davvero mi esplode mezza cosa ci ho messo un episodio a costruirla se mi esplode un po' mi da fastidio adesso dovrebbe essere tutto pronto ho preparato qualche TNT l'ho messa dentro già ne avevo una bella scorta e adesso proviamo l'attacco via 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 ok la vedete l'hanno lanciata se non ci sono stati danni è perfetto nessun danno ma meraviglioso ma è meravigliosa sta cosa che bello tac ok TNT a bestia arrivano quelle esplorano quelle lanciano quelle e poi quell'altro vengono lanciate ora ultimo passo è creare appunto la scaletta per la redstone dato che io qua ci spero di non venirci mai più in tutta la mia vita qua sotto magari per sistemare sì ma faremo un'altra entrata voglio portare solamente il il segnale redstone tac tac sì ce la dovrei fare portare il segnale redstone da sopra sotto però guardate che non è facilissimo mi servono gli slab ok ho fatto sta roba qua vediamo se funge funge perché non funge what the fucking crazy perché non funzioni ecce non funzioni perché io ti metto questo qui funge esatto eh ma non funziona non è collegato veramente perché no scusa scusa ma perché no non l'ho capita questa se io do l'impulso dovrebbe passare tranquillo perché non passa ma questo vi giuro non lo so ho risolto ma veramente una cazzata era però non capisco perché non funzionasse comunque questi sono gli ennesimi sistemi di difesa che abbiamo creato tanta tanta roba vi faccio vedere adesso ne spariamo uno e voilà si accende andiamo a vedere le esplosioni TNT eccole là le TNT che partono ma guardate un raggio d'azione davvero davvero grande cioè mi sa proprio una figata sto coso e ripartono altri due è bellissimo vederlo facendo la TNT e parte gasa gasa mi piace va bene ragazzi penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto ringraziatissimo per la visione e lasciare mi piace se il video è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su Facebook e farmi uscire le persone mi raccomando passate in tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram ci siamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi